bentornati sul canale ragazzi in questo video a scopo puramente informativo vi parlerò delle differenze e delle analogie tra la malattia di cron o morbo di cron e la retocolite ulcerosa iscriviti al canale così non perdi alcun contenuto che pubblico sul mio canale parlo appunto di argomenti di medicina di odontoiatria e anche di antropologia sia il morbo di cron sia la retocolite ulcerosa sono due malattie infiammatorie croniche intestinali presentano queste due malattie degli aspetti in comune e degli aspetti differenti per quanto riguarda il cron tende a colpire maggiormente i pazienti giovani la retocolite ulcerosa invece colpisce anche i soggetti giovani ma in linea di massima tende ad avere la sua massima incidenza fra la terza e la sesta decade di vita quindi tra i 30 e i 60 anni mentre poi il cron può colpire qualsiasi porzione dall'apparato digerente dalla bocca fino all'ano la retocolite ulcerosa tende invece a dare delle lesioni più localizzate soprattutto a carico del colon ascendente e anche del retto nel morbo di cron sono presenti appunto delle ulcere segmentate ed è più colpito invece il colon ascendente ci possono essere delle fistole anali e all'interno del cavorale ci possono essere delle lesioni ad acciottolato e anche una più stomatite vegetante per quanto concerne la retocolite ulcerosa anche qui abbiamo delle ulcere nel cavorale ci può essere una più stomatite vegetante e è più frequente nella retocolite ulcerosa il sangue nelle feci per quanto concerne i sintomi generali del cron sono appunto il dolore addominale la diarrea la stitichezza il calo ponderale cioè la perdita di peso la febbricola e il dolore addominale per quanto riguarda invece i sintomi della retocolite ulcerosa alcuni sono simili anche qui abbiamo diarrea febbricola malessere e dolori ma in più nella retocolite ulcerosa potrebbero esserci in alcuni casi delle manifestazioni dermatologiche per quanto riguarda le complicanze del morbo di cron quelle più frequenti sono le ulcere intestinali le stenosi ileali le fistole e gli ascessi anali le complicanze invece della retocolite ulcerosa più frequenti sono appunto le ulcere la diagnosi di entrambe queste patologie si esegue appunto con una visita con specifici esami di laboratorio e con la colonoscopia ovviamente queste patologie sono di competenza dello specialista di branca che è il gastroenterologo che elaborerà una corretta diagnosi e un corretto trattamento l'odontoiatra però può riconoscere alcuni segni di queste patologie all'interno della bocca e inviare comunque sia il paziente al gastroenterologo se il video ti è piaciuto lascia un mi piace ed iscriviti al canale condividi questo video con altri utenti per far crescere sempre di più questa community e per renderla sempre più utile per tutti attiva anche la campanellina delle notifiche così appunto riceverai una notifica nel momento in cui pubblico un nuovo video ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao